Prego. 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 Vi vogliamo dire che voteremo il decreto missioni ma che non accettiamo più che vengano camuffati, occultati lì dentro, 121 milioni di euro per la cooperazione internazionale che vengono destinati fuori dalla nazione. Che vogliamo che tutte le risorse vengano trattenute in patria per curare le ferite della nazione. Ancora che vogliamo, per esempio, che noi non abbiamo più nessuna suddittanza psicologica nei confronti di una sinistra che in virtù del coronavirus ci diceva tutto cambierà. E in virtù di quel tutto cambierà. Avete privato gli italiani di libertà costituzionali e mi avvio la conclusione. Avete recluso i domiciliari senza pena gli italiani. Avete chiuso le imprese per decreto e una sola cosa non è cambiata. Il mantro della cooperazione internazionale di una sinistra esterofila che pasce la sua presunzione di superiorità morale perché destina risorse a tutti tranne gli italiani. E allora vi diciamo, in Commissione Estri, sfiorando il ridicolo, ci avete spiegato cosa fate. In Etiopia migliorate il chicco di caffè. E allora noi vi diciamo che volevamo stare al fianco del riso piemontese, stare al fianco del vino siciliano, stare al fianco delle arance calabresi, stare al fianco del pesto genovese, stare al fianco dei carciofi e delle patate di leonessa laziali, stare al fianco del comparto agricolo italiano. Perché per noi viene sempre e comunque prima l'Italia e per voi viene sempre e comunque la vostra superiorità morale che si pace di ipocrisia internazionale con i soldi degli italiani.